Sono Iacomo Massaro, sindaco di Belluno, sull'educazione della cittadinanza nelle scuole ci mettiamo la firma. Articolo 30 della Costituzione. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge è detta norma e limiti per la ricerca della paternità.